Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Sergio Costa, in occasione della campagna di comunicazione ambientale, mi illumino di meno, chiama a raccorti i parchi per una disione fattiva all'iniziativa, con un gesto simbolico, quello dello spegnimento delle luci delle sedi istituzionali il prossimo 1 marzo alle 19. Un invito che raccogliamo con entusiasmo, dichiara il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino. Nella piena filosofia del Parco, aderiamo convintamente all'iniziativa, spegnendo le luci di tutte le nostre sedi istituzionali, così da sensibilizzare alla difesa della natura e alla riduzione degli sprechi. In occasione della giornata di risparmio energetico come ente Parco, chiediamo a tutti i sindaci di comuni del Parco di fare lo stesso simbolico gesto con le case comunali il prossimo 1 marzo alle ore 19. Sono certo che l'esempio sarà seguito anche dalle scuole e da tutti i cittadini, spegnere le luci e testimoniare il proprio interesse al futuro dell'umanità. Resta un'iniziativa concreta, non solo simbolica, è molto partecipata. La tematica di quest'anno è l'economia circolare. La salvezza del genere umano sulla Terra passa dall'economia circolare. Riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, mantenere, recuperare, rigenerare. L'economia circolare rappresenta infinite opportunità di riciclo e oggi sta diventando anche economia vera, con importanti investimenti da parte di grandi aziende.